Benvenuti alla lezione che prevede lo studio dell'energia chimica, una delle sfide della chimica verde. Se ricordate quando abbiamo parlato delle sfide della chimica verde abbiamo citato come prima addirittura nell'elenco l'energia. L'energia è una sfida della chimica perché la chimica serve a produrre energia, lo fa attraverso sistemi diversi, possono essere i combustibili fossili come il petrolio oppure i combustibili rinnovabili come le biomasse o come l'energia solare, ma di fatto presiede alla trasformazione di una serie di processi che hanno come risultato la produzione di energia. Gli argomenti della lezione saranno definizioni di energia chimica, esempi e il concetto di entalpia che è molto importante come vedremo. Definizione. Allora l'energia chimica che cos'è? La possiamo definire come la capacità di alcune sostanze di combinarsi con altre sviluppando energia sotto forma di le tre forme principali con cui noi siamo soliti vedere l'energia, la luce, il calore e l'elettricità. Quindi questa capacità di interazione fra sostanze sviluppando luce, calore, elettricità è sostanzialmente energia chimica e può essere anche però definita come la somma, questa è una definizione più teorica, quella precedente più pratica, come una somma dell'energia cinetica degli elettroni. Vi ricordo che all'interno della struttura degli atomi noi abbiamo gli elettroni nei livelli energetici, quindi la somma dell'energia cinetica degli elettroni che si muovono in questi livelli e dell'energia potenziale dovuta alle interazioni elettriche tra le varie cariche presenti nella materia, elettroni, protoni, soprattutto che sono le particelle cariche. Ma ci sono anche altre definizioni dell'energia chimica che vale la pena di ricordare soprattutto perché chiariscono il concetto. La possiamo immaginare come una sorta di energia potenziale o di posizione se volete che si trasforma in energia chimica grazie alla tendenza degli elementi di reagire fra loro per migliorare la loro configurazione elettronica. Se ci pensate non è altro che entrando nel mondo dell'atomo e quindi nella parte più intima della materia di quello che ho detto precedentemente, interazione, capacità di interazione per produrre energia, qui capacità di interazione fra elementi per produrre energia ed è la configurazione elettronica che è la chiave di questa possibile interazione. Un'ulteriore definizione di energia chimica fa riferimento alla quella che viene chiamata l'energia di movimento, nel senso che responsabile della produzione di energia, voi sapete, sono gli elettroni perché poi l'energia è collegata alla presenza di elettroni. Questa è la ragione per cui alcuni materiali non sono energeticamente interessanti perché poveri di elettroni. Allora la capacità degli elettroni di muoversi è una caratteristica che facilita la produzione di energia e quindi l'energia chimica vista anche come energia di movimento. Qualche spunto di riflessione su quanto abbiamo detto fino adesso. Cosa si intende per energia chimica? Alcuni esempi che noi possiamo vedere per applicare quello che abbiamo appena detto in termini generali a casi pratici. Come al solito questo è importante per farvi capire poi l'essenza dei problemi. L'energia collegata alla fotosintesi. La fotosintesi è una reazione chimica naturale in che cosa consiste? Nella produzione di biomassa a partire da anidride carbonica ed acqua e si produce, accanto a questa biomassa, si produce dell'energia. Quindi è una reazione naturale che produce energia. La domanda è come è possibile che una reazione naturale alla quale quindi noi non diamo un contributo energetico produca energia? La risposta è nel fatto che la reazione di fotosintesi è innescata dalla luce solare e quindi noi sfruttiamo nella fotosintesi l'energia luminosa che ci viene dal sole. Leggiamo insieme. L'energia luminosa viene trasformata in energia chimica in quanto attiva la reazione tra anidride carbonica ed acqua con la produzione di biomassa e di ossigeno. Questo ossigeno messo tra parentesi dal punto di vista energetico è meno importante ma pensate a quando andiamo in un bel bosco d'estate a come ci ossigeniamo proprio in funzione del fatto che la fotosintesi clorofiliana all'interno di un bosco è particolarmente sensibile e particolarmente attiva e il fatto che si produca ossigeno aiuta molto i nostri polmoni e in questi chiari di luna di covid che direi che certamente può essere una cosa interessante. Un'altra reazione che ci aiuta a capire come le reazioni chimiche possono produrre energia è quella con la quale gli zuccheri alimentano il nostro organismo in situazioni di richieste di energia. Quante volte vedendo svenire una persona gli è detto diamogli un po' di acqua e zucchero. Acqua e zucchero perché? Perché lo zucchero è una materia che l'organismo è capace di metabolizzare rapidamente quindi lo può utilizzare facilmente. Io gli potrei dare un grasso che è molto più energetico dello zucchero ma prima che l'organismo sia in grado di utilizzare quel grasso la persona sta male peggio di prima. Invece dandone acqua zuccherata noi lo mettiamo in condizione di avere immediatamente una fonte di energia disponibile. Ci sono due processi di trasformazione importante, quello dell'energia chimica in energia elettrica e quello dell'energia elettrica in energia chimica. Parliamo del primo, trasformazione di energia chimica in energia elettrica. Oggi le batterie di tutte le dimensioni sono diventato un must della nostra vita. Non si può vivere senza batterie di ogni tipo e dimensione. Pensiamo ai cellulari, pensiamo ai microchip, pensiamo agli dispositivi per la protezione della salute e quant'altro. Ora, tutti questi si basano su batterie. La batteria produce energia elettrica, ovviamente, essendo una batteria. Ma la base di questa energia elettrica è un'energia chimica, cioè avviene una reazione chimica, la quale reazione chimica ha come risultato la produzione di energia elettrica. Perché? Perché la reazione chimica mette in movimento gli elettroni e, come abbiamo visto precedentemente, il movimento degli elettroni corrisponde a produzione di energia. Leggiamo insieme. L'energia chimica può essere trasformata in energia elettrica grazie a particolari strumenti quali le celle elettrochimiche o le pile. Così, grazie ad un fenomeno di elettrolisi, può però avvenire il contrario, che cioè si passi da energia elettrica a energia chimica. Allora, come nelle batterie l'energia chimica è stata trasformata in energia elettrica, nelle celle di elettrolisi si fa l'elettrolisi di una soluzione. Quest'elettrolisi, ovviamente, consuma energia elettrica e, come risultato, ha la produzione di energia chimica. Quindi avviene esattamente il contrario di quello che avviene nelle pile. In natura vi sono diverse sostanze definite come forme di energia chimica immagazzinata, le biomasse, il carbone, il petrolio. Contemporaneamente al rinascio di energia avviene la trasformazione della sostanza in una completamente nuova. Un esempio il legno che diventa cenere. Cosa ci dice questa reazione? Che l'energia in natura viene immagazzinata in alcuni prodotti, che poi sono in grado di restituircela e di mettercela a disposizione. Il petrolio è il più comune che ben conosciamo, ma non è il solo. Il carbone, tutti i combustibili, le biomasse, tutte queste sono materiali che immagazzinano energia e poi al momento opportuno la possono cedere, ovviamente trasformandosi. Lì è riportato un esempio, la trasformazione del legno in cenere, che corrisponde alla cessione di una notevole quantità di energia. Spunti di riflessione. Indicare alcuni esempi di energia chimica. Quali trasformazioni menzionate producono energia chimica? e parliamo di entalpia. È una grandezza molto importante, come vedremo, che ci aiuta a capire moltissimo sulle reazioni chimiche. Ed è definita, l'entalpia, come il calore sviluppato da una trasformazione fatta avvenire in una bomba calorimetrica. Allora, chiariamo questo concetto. Per calcolare l'entalpia di un composto, io lo devo fare bruciare in una bomba calorimetrica. La bomba calorimetrica è un contenitore a tenuta stagna all'interno del quale si produce la combustione e si misura il calore prodotto. Questo sistema funziona, se voi ci pensate, a volume costante, nel senso che il volume è quello del contenitore. Non può, durante la trasformazione, essere modificato. Quindi corrisponde questa variazione di energia a una diminuzione dell'energia interna del sistema che bruciando cambia i suoi connotati. Però, in realtà, quando noi facciamo avvenire le reazioni di combustione e che utilizziamo nei processi industriali, nel riscaldamento, nelle macchine, noi non lavoriamo a volume costante, ma lavoriamo all'aria. Quindi quella che è costante non è il volume, ma è la pressione. Noi non abbiamo un contenitore rigido, come la bomba calorimetrica, ma abbiamo un volume aperto, dove le reazioni avvengono. Quindi leggiamo insieme. In realtà, però, le reazioni di combustione, quelle pratiche, così come la quasi totalità delle trasformazioni della materia, questo è ovvio, non vengono realizzate in un contenitore rigido a volume costante, ma avvengono a pressione atmosferica, cioè in condizioni in cui quella che è costante non è il volume, ma è la pressione. Nelle trasformazioni che avvengono a pressione costante, il calore acquistato o ceduto dalla reazione non è uguale alla variazione di energia interna del sistema, come avevamo detto nel caso del volume costante, ma corrisponde invece alla variazione di un'altra proprietà. Quindi si sostituisce alla variazione dell'energia interna, che è propria dei sistemi a volume costante, la variazione di un'altra proprietà, che viene per l'appunto chiamata entalpia, e che caratterizza quindi la trasformazione a pressione costante, ma a volume variabile. Anche l'entalpia è una grandezza di stato. Cosa intendiamo con grandezza di stato? Intendiamo una grandezza che dipende solo dallo stato iniziale e da quello finale del sistema, che vuol dire che se io da un sistema A lo porto attraverso un processo AB, nei valori di A e di B di entalpia, avrà due valori, il valore iniziale e quello finale, questi due valori sono sempre gli stessi, a prescindere dalla strada che ho seguito per andare da A a B. Quindi se ho più reazioni, io so che la variazione di entalpia è sempre quella, e potrò scegliere la reazione più conveniente. Tanto so che la variazione di entalpia non sarà influenzata dal tipo di reazione che ho scelto, perché la variazione dipenderà solo dagli stati iniziali e finali. L'entalpia, essendo un'energia, si misura in joule come un lavoro. La variazione di entalpia relativa a una trasformazione che avviene a pressione costante corrisponde al calore scambiato, quindi essa potrà essere negativa se il valore scambiato è a perdere, oppure positiva se il calore scambiato è ad acquisire, ma allora si parlerà nel primo caso di reazione esotermica, calore a perdere, quindi la reazione è perdere calore e quindi è esotermica. Nell'altro caso invece acquisizione di entalpia, quindi di calore, la reazione è endotermica, nel senso che assorbe calore. Come si fa il calcolo della variazione di entalpia di una reazione? Perché voi capite che è importantissimo, in quanto avere la variazione di entalpia di una reazione vuol dire capire se questa reazione poi sarà una reazione esotermica o endotermica e quindi se procederà da sola o se avrà bisogno di un innesco dall'esterno? Quanto sarà il rapporto costi-benefici della reazione stessa? Per esempio, consideriamo la reazione di scomposizione dell'urea con l'acqua. L'urea, CO NH2 due volte, con acqua, dà anidride carbonica e ammoniaca. Quindi l'urea è solida, l'acqua è un liquido, ma si producono due gas, anidride carbonica e ammoniaca. Domanda, questa reazione è una reazione endotermica o esotermica? Quindi ha bisogno di essere alimentata energeticamente o al contrario essa stessa produce energia? Ecco, siccome questa reazione avviene all'aria e quindi non in un incontenitore di dimensioni controllate, dobbiamo fare riferimento non all'energia interna, ma per quanto vi ho detto fino adesso, alla variazione di entalpia. Ora, la variazione di entalpia del sistema durante una reazione è indicata dalla equazione che qua vedete riportata. Ci dice che la variazione di entalpia durante una reazione è uguale alla somma delle variazioni di entalpia di formazione dei prodotti meno la somma delle variazioni di entalpia di formazione dei reagenti. Di fatto si conoscono le variazioni di entalpia dei vari composti, allora uno prende i prodotti finali e i reagenti, ne determina perché nota la variazione di entalpia per formarli, produce la sommatoria di tutte queste variazioni sia per i prodotti che per i reagenti e fa la differenza. Leggiamo insieme. Sappiamo che non è possibile conoscere il valore dell'entalpia delle sostanze, ve l'ho appena detto, ma conosciamo il valore di variazioni di entalpia della formazione delle sostanze. Per questo motivo la relazione che consente di ricavare la variazione di entalpia di una reazione diventa la seguente ed è quella che abbiamo appena commentato. Adesso cerchiamo di trasformare questo discorso in valori quantitativi che io ho trovato tabellati. Allora la variazione di entalpia di questa reazione sarà i prodotti finali, abbiamo anidride carbonica e ammoniaca, i prodotti iniziali urea e acqua, ognuno con le sue variazioni di entalpia, per cui si fa la somma dei prodotti finali meno la somma delle variazioni di entalpia dei reagenti e si arriva a un valore finale di 133,61 kJ. Positivo! Che cosa ci vuol dire questo? Che la reazione che ho appena considerato, visto che la variazione di entalpia è maggiore di zero, quindi è positiva, vuol dire che l'entalpia di formazione dei reagenti è minore di quella dei prodotti perché sono prodotti meno reagenti e quindi si deve concludere che la reazione è endotermica. Ve l'ho fatto vedere, questo è un bel esempio di come si può ricavare la variazione di entalpia di una reazione e quindi a tavolino prevedere se quella reazione è esotermica o endotermica. Vi ripeto, si parte dalle reazioni di formazione dei singoli componenti. A ogni reazione di formazione di un singolo componente corrisponde una variazione di entalpia. Si fa la sommatoria delle variazioni di entalpia dei prodotti finali meno la sommatoria delle variazioni di entalpia dei reagenti e quello che si ottiene è un valore che ci consente di dire se la reazione che stiamo considerando sia una reazione endotermica, quindi che produce calore, scusate, endotermica che assorbe calore oppure esotermica che produce calore. Spunti di riflessione. Definire il concetto di entalpia come si calcola la variazione di entalpia. Ovviamente questa domanda come si calcola la variazione di entalpia diventa importante quando si fa un confronto per esempio tra diversi materiali come combustibili in diverse condizioni e stabilire quale è il più conveniente ai fini del calore prodotto. Voi sapete che il calore di combustione dei vari combustibili è praticamente il suo nome e cognome una volta che è stato individuato con un valore viene a essere caratterizzato come qualità di combustibile. Ecco perché il calcolo della variazione di entalpia nel momento in cui si fanno dei paragoni o dei confronti tra materiali diversi diventa importantissimo. Riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende per energia chimica? Indicare alcuni esempi di energia chimica. Quali trasformazioni menzionate producono energia chimica? Definire il concetto di entalpia. Come si calcola la variazione di entalpia? Ecco io prima di chiudere vorrei ritornare su questi due concetti proprio della parte finale della lezione di oggi energia interna e entalpia. La variazione di energia interna la variazione di entalpia sono due concetti distinti e che hanno uno un valore più teorico perché è un valore che fa riferimento a una condizione che è da laboratorio. È una condizione di indagine, una condizione analitica, quella di lavorare in una bomba calorimetrica. Non corrisponde all'applicazione pratica di un processo di combustione. Invece l'entalpia ci consente proprio di metterci in questa condizione. Ecco perché i due si integrano perfettamente. Molte volte si deve partire da un'analisi di laboratorio e quindi l'energia interna, la variazione di energia interna e quindi il risultato della bomba calorimetrica diventano il dato da cui partire per procedere verso le successive applicazioni. In qualche altro caso invece questo non è necessario e allora è direttamente la variazione di entalpia che ci aiuta a capire qual è il risultato termico della reazione. E vi ripeto, l'ambiguità è chiarissima, endotermico, esotermico. Endotermico vuol dire che assorbe calore e se assorbe calore chiaramente è un processo in perdita, esotermico produce calore, è un processo in vantaggio per l'uomo, nel senso che adesso non corrisponde la necessità di fornire energia, ma anzi il processo produce energia. Con questo abbiamo concluso, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buona giornata.